La scomparsa di Lenya Carrisi, ha causato un profondo dolore, sia ad Albano che a Romina Power. Mentre quest'ultima ha dichiarato di credere che sua figlia possa essere ancora viva, Albano è sempre apparso più pessimista, fino a depositare la dichiarazione di morte presunta. Nel corso di un'intervista rilasciata recentemente, Albano è tornato sull'argomento, sottolineando che ovviamente, è stato uno dei dolori più grandi della sua vita. Poi, il cantante ha spiegato, che poco prima che Lenya facesse perdere le sue tracce, aveva iniziato a comportarsi in maniera strana con lui. Un giorno andai negli Stati Uniti per vederla, ma lei era molto strana, e voleva uscire di nuovo, anche se era tardi, ed era appena tornata. Il cantante cercò in tutti i modi di impedire ad Lenya di uscire, dato che sembrava essere anche alterata, ma lei non ne volle sapere, e fuggì rapidamente dall'abitazione. A quel punto, Albano provò a seguirla, ma Lenya cominciò ad urlare, che un uomo sconosciuto le stava dando fastidio. Ovviamente, non sapendo che fosse suo padre, nella dinamica dell'evento, tutte le altre persone lo bloccarono, impedendogli di fermare Lenya. Albano ha voluto sottolineare con questo racconto, che sua figlia stava già dando dei segnali strani, prima di sparire nel nulla. Che cosa ne pensate? Sapevate questo dettaglio sulla scomparsa di Lenya? E cosa credete sia successo? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.